salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di lei la più piccola videocamera di sorveglianza prodotta da ez viz questo marchio di cui ho portato tantissimi prodotti qua sul canale e che tanti di voi hanno acquistato confermandomi poi dopo l'acquisto di essere stati contentissimi di avere acquistato un prodotto ez viz si perché questo marchio che ritengo uno dei migliori marchi per rapporto qualità prezzo se non il migliore ci da ragazzi veramente dei prodotti tecnologicamente molto performanti al giusto prezzo oggi vi porto sul canale la recensione di lei la bc2 la videocamera di sorveglianza più piccola prodotta da ez viz perché ragazzi è veramente piccolissima guardate la rispetto alla mia mano ma con caratteristiche sicuramente sicuramente molto interessanti allora adesso guardiamo velocemente cosa abbiamo nella confezione poi ve la faccio vedere ovviamente in azione allora nella piccola confezione troviamo il manuale di istruzioni anche in lingua italiana poi troviamo un supporto magnetico sì perché lei è a fissaggio magnetico sia per quanto riguarda la parte che va a fissarsi alla parete o alla superficie d'appoggio che la parte che va attaccarsi alla videocamera ma questo lo vedremo tra poco quindi supporto magnetico la piccola videocamera ez viz bc2 e poi qua sul fianco della confezione troviamo i fischer che adesso vi spiego a cosa servono un cavo d'alimentazione per la ricarica della batteria perché comunque lei ha un'autonomia fino a 50 giorni e con questo cavetto usb micro usb possiamo ricaricare la nostra ez viz basta collegarla ad un alimentatore per smartphone una qualsiasi presa usb e andiamo a ricaricarla e poi abbiamo questi piccoli accessori che sono davvero molto molto utili allora abbiamo questa staffetta in metallo appunto perché essendo lei magnetica ha bisogno di un appoggio in metallo per agganciarsi quindi se la superficie dove dobbiamo appoggiarla a meno che non sia ovviamente su un piano dove allora lei si appoggia senza nessunissimo problema ma se dobbiamo metterla in una parete in una superficie comunque verticale dovremmo avere una superficie in metallo quindi per avere questa possibilità di aggancio magnetico abbiamo questa piccola staffetta che potremmo fischerare tipo a un muro o se invece dobbiamo attaccarla a qualcosa ovviamente che non possiamo bucare che ne so una mensola piuttosto che un mobile allora a quel punto useremo questo biadesivo che ovviamente andrà attaccarsi qua alla staffetta e poi alla superficie quindi questi sono tutti gli accessori che abbiamo all'interno di questa piccola confezione adesso sbaracco qua tutto e guardiamo da vicino lei la piccola ez bc2 allora come abbiamo detto lei è davvero molto molto piccola il supporto come abbiamo detto è magnetico vedete che abbiamo questa parte quella più grande che ha questo quadrato che dove lei va ad agganciarsi in maniera magnetica adesso vi faccio vedere e vedete che è attaccata in maniera magnetica dopodiché abbiamo questa superficie rotonda che rimane sempre magnetica quindi è la parte che va ad agganciarsi alla superficie d'appoggio ovviamente se la mettiamo su un piano non servirà che sia per forza magnetico ma se dobbiamo attaccarlo ovviamente come abbiamo detto in verticale a quel punto dovrà essere magnetico questo supporto è completamente snodabile riusciamo ad avere anche un angolo fino a 90 gradi infatti vedete che se io adesso vado a fissarla vedete che l'angolo adesso che ho ottenuto è fino a 90 gradi il bello di questa videocamera ovviamente è la dimensione e la possibilità di andarla a togliere e rimettere quando vogliamo in maniera super semplice e poi sono le sue caratteristiche perché abbiamo una videocamera che è in grado di registrare a 1080p come abbiamo detto 50 giorni di autonomia della batteria visione notturna fino a cinque metri ad infrarosso quindi dopo la proviamo che qua al buio per farvi vedere come in grado di rilevare appunto l'ambiente anche in condizioni di luce praticamente assenti e poi è in grado di rilevare figure umane come tutte le zviz ha questa funzione che potremo attivare e disattivare l'applicazione poi dopo vi faccio vedere di rilevamento della figura umana quindi lei ci manderà l'avviso nello smartphone solo se rileverà una figura umana quindi non manderà avvisi inutili quindi se dovesse essere un cane un gatto che abbiamo in casa lei non continuerà a mandare avvisi o se magari l'abbiamo in una posizione in cui si muove qualcosa perché c'è il vento una tenda piuttosto che lei non manderà avvisi solo se rileva una figura umana e devo dire che le zviz in questa funzione ragazzi non mi hanno mai deluso a livello di tasti è davvero molto semplice abbiamo il tasto del reset abbiamo il tasto power per accenderla e spegnerla poi abbiamo lo slot per la micro sd perché comunque lei non ha una memoria interna dovremmo metterci noi una micro sd supporta micro sd fino a 256 giga e poi abbiamo una porta micro gd appunto per la ricarica questo è tutto quello che abbiamo a livello di tasti e connessione e adesso non ci resta che provarla allora vado a prendere lo smartphone e vi faccio vedere appunto come configurarla allora vado per l'applicazione che si chiama ezviz è un'applicazione che praticamente fa funzionare tutte le videocamere di sorveglianza della ezviz quindi con unica applicazione avremo sotto controllo tutto l'ecosistema di sicurezza ezviz adesso vado a fare la scansione del mio viso perché comunque l'applicazione essendo comunque utilizzata per videocamere di sorveglianza quindi di sicurezza è possibile farla funzionare anche con il face id o con il touch id in base a quello che è il sistema di sicurezza del nostro smartphone allora vedete che io ho tutte le mie videocamere ezviz qua nella schermata principale quella più in alto bc2 è lei la piccola videocamera che oggi andremo a provare quindi per andare ad associare una qualsiasi videocamera ezviz come ho fatto vedere in tutti i miei video basta cliccare il più in alto a destra selezionare telecamere a questo punto andrà basterà andare a scansionare il qr code che abbiamo sotto alla videocamera perfetto vedete aggiunge dispositivo adesso io non lo vado ad aggiungere perché era già installato comunque questo è il procedimento per andare ad installarla quindi una volta scansionato il qr code che abbiamo sotto la videocamera rileva in automatico il tipo di videocamera dopodiché ci chiede solo di andare ad associare la nostra rete wifi quindi selezioneremo la rete wifi domestica che abbiamo nella nostra abitazione mettiamo la password che utilizziamo nel nostro router e via e lei già pronta per video sorvegliarci vado a cliccare su bc2 e voilà vado a togliere l'audio perché comunque ha anche un microfono integrato quindi le registrerà oltre alle immagini anche l'audio e qua abbiamo la live cioè direttamente nello smartphone vediamo in live quello che sta inquadrando lei ovviamente il ritardo la definizione tutto va in base poi alla rete wifi che abbiamo in questo caso lei è un po lontana dal mio modem in questo momento perché poi c'è anche le porte chiuse quindi non prende al massimo della sua ricezione però vedete che la fluidità comunque non è male per quello che deve fare lei e sempre in questa schermata in basso abbiamo la possibilità di selezionare definizione quindi potremmo avere full hd e definition o standard cioè in base appunto a quanto la nostra rete wifi sia in grado di sopportare i dati che ha questa videocamera da trasportare quindi se avremo una rete molto lenta è inutile mettere full hd perché poi avremo un video molto in ritardo che si blocca allora in alto a destra possiamo andare a configurare tutte le impostazioni di questa piccola videocamera e lei sebbene così piccola possiamo praticamente configurarla in tutto come una videocamera normalissima di ezviz quindi vedete che abbiamo risparmio energetico quindi lei dopo qualche minuto di live nello schermo tenterà di andare in pausa dovremmo noi andare ad interrompere altrimenti lei va in risparmio energetico questo per risparmiare energia e qua abbiamo le varie configurazioni di utilizzo abbiamo anche registrazione continua quindi lei registrerà sulla micro sd a ciclo continuo però ovviamente con un consumo di batteria che poi non sarà più di 50 giorni ma sarà molto molto meno perché registrare in maniera continua consuma tanta tanta energia però in base poi all'utilizzo che uno deve fare deciderà quale impostazione scegliere poi abbiamo rilevamento intelligente come vi ho detto lei ha la funzione rilevamento intelligente quindi rileva la figura umana e ragazzi è fantastico che così non vi darà delle false notifiche di movimento dovute magari ad animali o movimento di oggetti poi abbiamo sensibilità di movimento quindi potremmo andare anche a definire il grado di sensibilità del sensore di movimento poi abbiamo zona di rilevamento un'altra funzione molto interessante perché potremmo andare a selezionare solo l'area all'interno dell'inquadratura della videocamera quindi se la videocamera inquadrerà un determinato spazio potremmo andare a selezionare solo uno spazio all'interno dell'intera immagine in cui vogliamo che lei faccia il suo lavoro quindi una parte di quello che lei inquadra non verrà calcolato da lei un'altra funzione che ritengo davvero interessante per certi utilizzi poi usciamo abbiamo notifiche ovviamente anche qua questa è la parte più utile perché praticamente lei ci invierà le notifiche nello smartphone appena rileva un movimento ci arriverà appunto la notifica dello smartphone ci arriverà anche nello smartwatch quindi se avremo al polso un orologio ci arriverà anche la notifica ovviamente anche nell'orologio quindi anche qua abbiamo varie opzioni poi di come vogliamo utilizzare le notifiche potremmo anche andare a modificare quello che è diciamo l'orario perché magari in determinati orari non vogliamo avere le notifiche perché sappiamo già è una persona che conosciamo che comunque sarà all'interno dell'abitazione di qualsiasi posto in cui lei faccia il suo lavoro e a quel punto ovviamente in quegli orari non ci arriverà nessuna notifica anche se lei rileva una figura e poi abbiamo audio che potremmo andare a selezionare se vogliamo che lei registri ovviamente anche l'audio oltre al video poi abbiamo immagine qua abbiamo anche la possibilità di scegliere la qualità dei colori dell'immagine quindi abbiamo tre opzioni poi abbiamo luce cosa vuol dire che la telecamera come avrete visto qua davanti ha un piccolo led di stato in questo momento è blu che indica appunto che lei sta rilevando una figura che sta facendo il suo lavoro potremmo andare a disattivare appunto il led quindi in questa situazione quel led sarà spento poi abbiamo batteria quindi questo è tutto quello che abbiamo nella prima parte del menu poi sotto abbiamo ovviamente la rete wifi quindi come vi ho detto qua non prende tantissimo perché è molto lontana dal router e poi ho anche le porte chiuse poi abbiamo archivio cloud che è una cosa opzionale quindi non siete obbligati a fare avete anche la prova gratuita ma potete ignorare questo diciamo questo passaggio archivio cloud io non lo faccio mai però per chi volesse avere un cloud che registra praticamente all'infinito c'è anche questa possibilità ma è ovviamente bisogna fare un abbonamento per avere questa funzione altrimenti non l'avete poi abbiamo gestione archivi registrazione che come vi abbiamo visto avete archivio cloud e la scheda di memoria perché come abbiamo appunto visto lei ha uno slot per micro SD quindi qua potrete andare a formattare la micro SD e vedere quanto spazio avete ancora disponibile e via dicendo e poi abbiamo un'altra voce qua sotto vedete condividi il tuo dispositivo con altri cosa vuol dire che qua potrete andare a associare questa videocamera anche a un altro dispositivo quindi non sarete solo voi voi sarete sì gli amministratori della videocamera però potrete condividere appunto quello che lei vede con un altro dispositivo quindi magari con vostra moglie vostro marito vostro figlio piuttosto che un vostro parente così che non siate solo voi a ricevere il messaggio la notifica ma anche la possibilità di vedere in live il motivo per cui lei vi ha mandato quell'avviso e quindi lo potrete fare sia voi che qualcun altro quindi un'altra funzione sicuramente interessante per quanto riguarda ovviamente le videocamere di sorveglianza avere questa funzione e poi vedete che sotto abbiamo istantanea registra di quello che state vedendo in live quindi questo diciamo è tutto quello che è possibile fare con lei avete visto che è tanta tanta roba secondo me se calcoliamo le dimensioni la compattezza di questa piccola videocamera di sorveglianza e poi qua nella schermata principale avete anche la possibilità di andare a recuperare tutto quello che lei ha registrato a livello di movimenti rilevati quindi avete una cronologia con orario e giorno quindi ragazzi questo è tutto quello che abbiamo all'interno del menu e come vi ho detto è completissimo perché comunque parliamo di una videocamera veramente compatta però adesso volevo farvi vedere come si comporta lei con poca poca luce avete visto la live con le luci normali adesso vi faccio vedere com'è con poca luce avrete un confronto con la Canon la Canon che mi sta registrando una reflex vedrete come praticamente non vedrà niente la reflex è come lei comunque attivando il suo sistema di infrarossi come comunque ci darà tanta visibilità quindi adesso spegno tutte le luci e facciamo questa prova Alexa spegni tutte le luci perfetto ragazzi guardate che differenza la Canon non riesce praticamente a vedere niente mentre guardate la piccola BC2 di EZViz come comunque ci dà la possibilità di vedere tutto quello che succede anche con un buio pesto come sono io adesso a parte qualche led acceso ragazzi è buio buio pesto e secondo me è tanta tanta roba perché ragazzi questa videocamera è davvero davvero compatta quindi adesso direi di riaccendere le luci perché sta diventando una situazione anche abbastanza terrorizzante quindi Alexa accendi tutte le luci quindi ragazzi avete visto che spettacolo davvero fantastica per le sue dimensioni perché ragazzi è piccolissima cioè guardate veramente sta su tre dita è microscopica e però dal livello di sicurezza è sicuramente tanta roba da mettere in casa, da mettere in ufficio, da mettere in situazioni in cui non vogliamo uno far vedere di avere una videocamera di sorveglianza e due di non avere una cosa troppo invasiva anche dal punto di vista estetico e questa è davvero davvero fantastica e poi con tutte comunque le funzioni classiche delle videocamere di sorveglianza di EZViz tanta tanta roba sicuramente vi lascio il link qua sotto di Amazon in descrizione se volete dargli un'occhiata lei costa circa 79 euro poi dipende il prezzo vario in base anche alle offerte di Amazon e ci tenevo a specificare una cosa che nella descrizione del prodotto nella pagina di Amazon lei viene data come anche impermeabile IP66 se non sbaglio non è impermeabile assolutamente no poi c'è anche altre diciture sbagliate probabilmente nel creare la pagina hanno fatto confusione con un'altra videocamera infatti anche il nome riportato sotto non è il suo praticamente hanno fatto un po' di confusione secondo me di copia e incolla nelle descrizioni però ci tengo a precisare che lei non è impermeabile assolutamente no quindi non acquistatela per mettere all'esterno da mettere all'esterno ho portato qua sul canale altre videocamere di sorveglianza EZViz nate apposta per quella situazione lei è una videocamera di sorveglianza da interno quindi ragazzi spero che questo mio video vi sia piaciuto spero che questo prodotto di EZViz era BC2 questa micro videocamera di sorveglianza vi sia piaciuto come prodotto e se tutta questa video recensione vi è piaciuta lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove ho portato tante novità anteprime tantissimi spoiler arrivano su Instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte dove ho posto tantissimi coupon sconto riguardanti il mondo dei droni di tutta la tecnologia compresi i prodotti EZViz ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo, una recensione, un testo, un tutorial, novità ciao e al prossimo video ciao